Beh, io dico che a commissariato potremmo andarci un'altra volta, eh, mi sembra un tipo sincero, sincero, bravo. Ma, io non so, ma comunque, ma contana, che cosa ne dici? Certo, che è la situazione? Certo, parma. Senti, mi dico, ma hai avuto molte donne? Che dire, casale, non ve lo so. Ti prego, dimmi di sì e ti amerò ancora di più. Beh, non so, ma. Sì, sta, aspetta. E, dimmi, dimmi, c'è stata mai qualcuna che voleva uccidersi per te? Proprio poco fa ho tolto dalle mani della signora Gatti questa. E hai voluto lo stesso rompere con lei per sposare me. Oh, mamma, come potrei non amare un uomo, un uomo così tanto amato, tanto amato, mamma. Ma, comunque, cosa volete che mi dica? Se tu sei contenta, Valentina, e sposa, però no. Ma ricordati che il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Per cui, stai attenta, ma molto attenta. Ecco che ricomincia con i soliti discorsi da suocero. Per cui, stai attenta. 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 Grazie a tutti